Buongiorno a tutti i giorni, grazie a tutti i miei collaboratori, Simona, Pastri, Alice, Cristiano, Marco, Andrea, appunto le nostre, insomma, grazie a tutti i miei, ma ancora un grande, grandissimo applauso per questo cast che stavano finando. Buongiorno a tutti i miei ofre persone che sicuramente conosco faccio… Grazie a tutti.